Il ministro Maria Stella Gelmini blocca la legge di riperimetrazione del Parco Sirente Velino votata dal Consiglio regionale. Si scatenano le reazioni. Per il governo va a violare l'articolo 117 della Costituzione. Si legge infatti che talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di aree naturali protette, in materia di ordine pubblico e sicurezza. Il provvedimento è stato tanto contestato da associazioni da una parte della politica regionale che si era scagliata contro il taglio di 6.500 ettari di area protetta con la modifica della governance del Parco regionale. Ora chiaramente bisognerà attendere il parere della consulta che deciderà se la legge rispetta i principi costituzionali. Tante le reazioni. L'onorevole Demma Stefania Pezzopani ha ribadito che loro avevano sempre sostenuto che fosse una legge sbagliata, ma più di tutti il Movimento 5 Stelle era stato durissimo. Lo stop arrivato dal Consiglio dei Ministri con l'impugnazione della legge che ha tagliato il Parco regionale residente Velino non fa altro che darci ragione e dimostrare quanto questa legge sia una legge sbagliata, una legge che abbiamo contrastato in ogni modo e alla quale ci continueremo ad opporre in ogni sede. Una legge che ad oggi non valorizza minimamente il territorio, che strizza l'occhio soltanto a chi vede nella montagna un terreno di caccia e un bancomat per il legname. Una legge che speriamo venga presto affossata definitivamente. I lavori di commissione che hanno portato all'approvazione in Consiglio, durante questi lavori la maggioranza non ha minimamente dato ascolto né ai portatori di interesse né alle opposizioni ed ha ignorato le oltre 150.000 firme dei cittadini che chiedevano la salvezza del Parco. E questo è il risultato a cui si giunge quando si vuole governare da soli, ma soprattutto quando al primo posto si mettono gli interessi di partito ed elettorali e non invece il bene comune. Nei giorni scorsi era stato nominato dopo anni di commissariamento alla guida del Parco il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore, che aveva dichiarato sulla perimetrazione polemiche sterili. Legambiente da subito aveva sottolineato come la scelta della regione fosse in contrasto con le norme, parlando di bocciatura per la regione Abruzzo e anche di chi, appena nominato al vertice, ha rivendicato la giustezza e la necessità della scelta. Anche la stazione ornitologica abruzzese chiede alla regione un atto di umiltà e di tornare sui suoi passi prima della sentenza. Grazie a tutti.